...tecnica, sgancio, tocchisco, otto, chiudo... ...tocchisco, vuoto, finiamo con la copriola, ok? ...blocchiamo, lo giriamo... ...colpisco, io sono sempre qua, colpisco, chiudo, pressione, ruota, apro e colpisco il suo braccio. Posso usare il peso del corpo, in questo caso uso la spalla, lo basso avanti, qua c'è la vera incontro. Posso metterci un punto, ci sto a macronome. Seconda tecnica, chiudo, piaffeggio, la triplice allenatore numero 17. Ok? E proviamo. ...all'interno, verso l'alto, in modo che questo... ...quando volete, qualsiasi colpo basta vibrare dentro, qualsiasi parte apposta. Ok? Ok? ... ... ... ... ... ...